Pochi ma buoni. Nonostante miseri numeri sugli spalti nell'ultimo periodo, continuano le soddisfazioni a livello nazionale per il tifo dell'Aquila Calcio. Il coro un giorno all'improvviso, ideato sulle note L'estate sta finendo dei Rigueira e diventato da mesi virale, prima sul web e poi in tutti gli stadi dello stivale, è tornato alla ribalta lunedì sera nel post di Napoli-Inter, intonato a squarciagola dal pipita Gonzalo Higuain, mattatore della serata. La notizia è stata ripresa dai colleghi di Sport Mediaset, che però pur nominando gli ultra rosso-blu, hanno attribuito la paternità del coro ai supporters dell'Hockey Milano. Il club milanese ha però tenuto prontamente a precisare in un comunicato stampa che l'idea di un giorno all'improvviso era stata proprio dei tifosi dell'Aquila, gesto di sincerità apprezzato dai più. In fin dei conti un'altra bella soddisfazione per i Red Blue Igorts, che hanno dato prova di essere parecchio influenti sul tifo e sui media nazionali, nonostante il vistoso calo di presenze domenicali, ormai diventata una costante da anni. Grazie